Siamo con il presidente del Monterosi, i complimenti per la sua squadra che è scesa in campo con un piglio decisamente autorevole anche in uno stadio importante. Aspettavate questa partita un po' come tutte le squadre perché è un palcoscenico importante ma il Monterosi non ha dimostrato altro che essere una squadra organizzata con una società solida alle spalle. Sì, tutto vero, ovviamente nel calcio occorre anche un pochino di buona suerte, noi purtroppo avevamo un paio di giocatori migliori fuori e si è fatto male anche il portiere perché noi abbiamo un gran portiere e il 2001 ha preso un gol che mia zia l'avrebbe parato. Che poi è stato in fondo neanche una mezza azione, però onore e merito all'Avellino, non ha rubato niente, siamo noi stati un pochino stupidini e sfortunati. Anche un po' di ironia non guassa nel calcio, no? Ci vuole strammatizzare, presidente. Sicuramente però possiamo dire che il Monterosi è arrivato qui ad Avellino con uno score di tutto rispetto. Una sola sconfitta nelle ultime 12 partite, 8 vittorie e 3 pareggi, solo 2 gol incassate nelle ultime 6. Il vostro è un progetto serio, l'abbiamo già visto all'andata, siete una squadra che gioca a calcio. Mariotti ha detto che bisogna essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto perché siamo un paesino di 4 mila anime, però abbiamo un grande presidente che ci stimola a fare bene. Sicuramente oggi in campo si è visto un Monterosi che ha assolutamente meritato di portare a casa un risultato positivo nel primo tempo, poi alla fine i valori anche individuali dell'Avellino sono usciti alla distanza. Sì, questa è la sintesi più giusta e più efficace. Io poco fa ho dichiarato che secondo me l'Avellino è una gran bella squadra e ancora non esprime il potenziale che ha a disposizione perché è una squadra veramente ottima. È come se, perché io capisco di calcio, stranamente sono un presidente che capisce di calcio, ha giocato a calcio, credo che abbia una possibilità di miglioramento all'Avellino non indifferente e gli faccio gli auguri di vincere il campionato. È apprezzabile la sua onestà, la sua sincerità, non usa molti giri di parole e anche nel vigile della partita non ha nascosto un po' di amarezza per la designazione di Del Rio che non le era piaciuta all'andata, come ha valutato il suo operato oggi? Direi un'ottima sufficienza, anche se ci sono sempre 8-10 errori ma nella confusione accade punizioni invertite, ma complessivamente faccio i complimenti al signor Del Rio, un ottimo arbitraggio. L'ultima mia prima di dare la linea allo studio ne approfitto, Gabbianelli che ci fa in Serie D, così come No Man che invece è un po' più avanti con l'età, ma Gabbianelli è davvero 94 ma non c'entra nulla con la Serie D. Lo disse Mariotti in diretta domenica sulle nostre frequenze, ci sono calciatori che fanno percorsi strani, si ritrovano a giocare in categorie che non gli competono. Gabbianelli è una persona dotata tecnicamente dalla nascita, noi stiamo lavorando nella testa di Gabbianelli. Se questo lavoro va a buon fine, credo che da qui in poi, l'ha dimostrato anche oggi e spero il prossimo anno, di completare l'operazione chirurgica. Presidente, allora se alzo un po' il cappellino, oggi faceva freddo però glielo devo chiedere con cortesia perché così accosta l'auricolare. Angelo Giuliani in studio per lei. Salve, buonasera Presidente Capponi, senta ma la partita di oggi era fondamentale anche per voi, non so magari chiedo a lei se me ne dà conferma per rilanciare quelle ancora, chiamiamole flebili, ambizioni di poter vincerlo anche voi il campionato o già non ci pensavate più? Io ho fatto una riflessione prima della partita, secondo me chi vince oggi vince il campionato, le ho risposto. Le piace? Assolutamente, quindi ci credevate ancora? Certamente, certamente. Ed è tuttora giusto perché comunque avete una squadra di grande spessore, una squadra che gioca molto bene al calcio, forse la più attrezzata da questo punto di vista, quella che esprime il miglior gioco del girone. Almeno questa è la valutazione mia personale. Fermo restando che come organico, e sono d'accordo con lei, l'Avellino è una spanna sopra le altre e ha il diritto, dovere, di provare a vincere il campionato fino alla fine. Però adesso vi dovete guardare anche dagli assalti di Cassino e Aprilia in ottica play-off? Sì, assolutamente sì. Ho visto bene il Cassino adesso a due punti, però non è che incontriamo l'Avellino tutti i giorni e la sorte non proprio felicissima. Quindi mi auguro già da domenica di cominciare una serie di risultati positivi. Le dirò di più, pur augurando all'Avellino, e lo dico con il cuore, di vincere il campionato perché è la squadra più forte, c'è poco da fare. Dovrebbe crederci un pochino di più. Noi ancora pensiamo che nulla è scritto, perché mancano ancora otto partite e sono 24 punti. 3 per 8, 24. 24 punti. E non ci guardiamo dietro, guardiamo avanti, che è meglio.